E' la vita un sogno per me, i ricordi mi sembrano veri, i miei sogni son sempre sinceri, tra storie d'amore è il cuore che va. La realtà di ogni giorno è più dura, ci succede anche senza pietà, si può dare l'amore più vero, un cuore sincero, che sogno è per me. Gli ho vedutissimi, i grandi eroi, erano proprio da soli con me, o mascagni fattori e modi, ci insegnate la vita com'è così. Una storia che passa nel sogno, è una favola della realtà, o città che riempi il mio cuore, un sogno è l'amore, l'amore per te. Partito 2-0-3, motore, azione! C'era un battaglio, un'ampere di farlo, un'ampere colpa d'orso che è arrivato a Pizzato, è arrivato a Pizzato, è arrivato a Pizzato, c'era un'altra sera un po' di cuore, è arrivato a Pizzato, è arrivato a Pizzato, è arrivato a Pizzato, è arrivato a Pizzato, di Spazio, in una risposta, è arrivato a Pizzato, è arrivato a Pizzato, è arrivato a Pizzato, l'altra volta a Spazio, l'altra volta a Pizzato, e quella volta che dobbiamo andare a ballare… Grazie a tutti. 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 Dovevo prendermi a te, mia bella Artemisia. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao, ciao. Quello scemo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Amore. e fermare. e a tutti. Venite a tutti. Ciao, ciao. Grazie a tutti. Alberto. ti devo parlare. e... Forse mi sei sbagliata. Non lavoro, capisci? Senti, Emilio. Conoscendo tu. Furono mesi di tribolazione per la giovane donna. Dovette dire del suo stato in casa e subire la sfuriata di suo padre Mauro, un carbonaio delle montagne di Reggio Emilia, duro e intransigente, che si era trasferito in questa città dove aveva messo su una bottega di legna a carbone insieme al figlio Tonino. Ma Tonino verrà? Verrà? Tonino verrà, non so che c'è anch'io se venisse. Mi darebbe una mano, sono indietro col lavoro. Ma verrà? Lui ha promesso che viene, ma è sempre a giro con quella bicicletta, con quei suoi amici, alla sua età ero Giacchino che lavorava. Non lo so se viene, lui ha detto che viene. Forse dopo, a pranzo, dopo pranzo, non lo so. Ma bello. Mauro, la legna. Eh, la doletta, la zina, mattutine. Eh sì. La legna non manca. Però per la carbonella bisogna aspettare, perché Franco arriva sempre in ritardo. Anzi, questa volta penso che arrivi ancora più in ritardo, perché ieri l'ho strazzata a bozzette. Le bacce, le palle. C'era un pallino lontano, lontano, non si vedeva neanche. Ci ho fatto un tiro manzino, guardate che le bozze. Ma la porti a casa. Ma è ziometria, è arte. Ciao Mauro. Va bene, allora per la carbonella quando arriva lo porto io, eh. Misia, per un momento, che è tutto il giorno che rimango con una cosa qui che non ci posso pensare. Voglio sapere chi è quella carogna che ti ha fatto questo rispetto. Perché ci voglio andare a parlare io e dargli un riempino di sacramenti per fargli capire che non si deve trattare così. La brava gente è una bella ragazza come te. Allora? Come si chiama questa carogna, eh? Come si chiama questa carogna? Misia! Misia! Finalmente si chiude la bottega. Misia, io ti voglio bene. Te l'assicuro. Lo so, Renzo, ma vedi, non è facile per me. Il bambino l'ho voluto e deve nascere per l'amore che ho provato per Alberto. Hai provato? Quindi vuol dire che adesso... No, queste sono cose mie. Io ti sono grata per il pensiero che hai avuto. Lo so che avresti tenuto anche questo bimbo che sta per nascere. Ma non sarebbe giusto. Soprattutto per lui. Mora, qui te? Che cosa ci sei venuto a farle? Beh, Mauro, voglio sposare Misia. Ma questa sì, che una bella notizia. Bravo, bravo, bravo. Aspetta qui un attimo, eh? Finalmente hai capito, eh? Misia! 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 Avienzo, che c'è qualcuno che ti deve parlare! Ora, ora che mancano due minuti alla nascita del tuo figliolo ti fai vivo. Ora ti fai vivo? Certo, c'è una ghigna che ci rimbalza la ciaire. Ora, ora che non ti voglio più. Ora che non ti amo più. Ora che non ti amo più. Misia. Io ti ho sempre voluto bene. Ma che lo dici, un scemo? Sai, dicono tutti che sarà un maschio. Senti lì, senti lì che popò di pedate. Lo chiamerò... Lo chiameremo. Donato. Donato? Qualcosa che non va? Non ti piace? E chi si azzarra di nulla? Va bene. Sarà pronto per la cronaca locale. Stia tranquillo. Dottor, dottor, dottor. Misa sta parturendo, corrite. Misa sta parturendo, corrite. Non ti sa, non bisogna di dottore patriciare da sola. In una calda giornata del 1933, alietata da un sole estivo, nasceva Donato. In una piccola casa sugli scali delle barchette, nel rione della Venezia, nel cuore della Tura, proprio accanto alla spiaggia arenosa dove i calafati impeciavano, costruivano i navicenti. Donato visse i suoi primi anni e puppò, come dicevano i vecchi del quartiere, l'aria sarsa e catramosa e i refoli del libeccio che si infiltravano nelle stradine e sull'acqua dei fossili quel rione situato nell'angiporto, al centro di una vagnatela di canali che le aveva avalso il nome della Serenissima. In quel rione, la gente era tanto rozza e tignosa contro le repotenze, quanto generosa e pronta a levarsi la camicia per il prossimo. «Aiuto! Aiuto! Aiuto! Aiuto!» «Aiuto! Aiuto! Aiuto! Aiuto!» «Jovantino!» «Dolomino!» « 딱 un momento! Anemati dalla terza tendenzionale!» «Aiuto!» «Dolomino! Anemati la morte di Darta!» «S Elsie, ¡that è la morte di me!» « agua l'tra habla little firma!» «Dolomino!» «Joanina!» «Dolomino!» «Euto!» Com'è mai così triste Donato? Giovannino è morto, era mio amico, ma te chi sei? Come? Non mi riconosci? Con tutti i libri che hai letto su di me? Ma non vedo la tua faccia Io sono Bartelloni Bartelloni, non ti chiami Pasquale Ma che cosa dici? Io ho combattuto per la libertà del mio popolo e ho lottato per i miei ideali Cosa sono gli ideali? Hai ragione Donato Ecco, vedi, gli ideali sono sogni da realizzare Non so, per esempio, ti hanno mai chiesto che cosa vuoi fare da grande? Eh, hai voglia, se quando non ho altro da dire i grandi ti chiedono sempre quello Eh, quando tu dici quello che vuoi fare da grande esprimi un tuo ideale Ho capito, allora voglio fare lo scrittore Bravo, proprio così E te cosa vuoi fare da grande? Io ho combattuto contro i prepotenti e ho lottato per il risorgimento Risorgimento? Oggi non esiste più questo tipo di ideale Se mi guardo intorno vedo che oggi si pensa solo a Gozzodigliari Non so, forse questa è buona cosa Forse, forse ci sono meno problemi Dove vai a pescare? Ciao Martelloni Ciao Donato Ma lo sai che ti ho visto in uno dei miei sogni? Ah sì? Spero che avessi fatto buona pesca No, no, eri un eroe del risorgimento Un eroe del risorgimento? Io? Ma da dove te le levi queste idee? Dai libri, no? Sui libri dove puoi sapere cose che per viverle non ti basterebbero 10 Ma che dico, 100 vite E sinché sui libri hai visto me, che ero un eroe Ma che balle stai inventando? No, no, ma tu assomigli molto a un certo Bartelloni E chi sarebbe questo Bartelloni? Te l'ho detto, un eroe del risorgimento I libri L'ho smesso di andare a scuola che non avevo ancora compiuto 8 anni Per andare ad aiutare mio padre Con l'acqua, il vento, il caldo, sempre in barca E all'alba quando si tornava, la nostra casa era sempre la barca Vedevo i miei compagni andare a scuola con i loro beghi nebioliri E io lì, pronto ad eseguire gli ordini di mio padre Per magari non rischiare di prenderli Comunque fai bene Donato, perché i libri sono importanti Ciao Bartelloni È la vita un sogno per me I ricordi mi sembrano veri I miei sogni sono sempre sinceri Tra storie d'amore è il cuore che va La realtà di ogni giorno è più dura Ci succede anche senza pietà Si può dare l'amore più vero Un cuore sincero Che sogno è per me Donato, ma cosa ci fai qui da solo? Che salutavi che non c'è nessuno? Parlavo con i giovani vecchi I vecchi? Ce li siamo con i vecchi? Ma quali i vecchi? Quelli di tanto tempo fa I vecchi, no? Un'altra volta con i vecchi Ma sono giovani o sono vecchi? Erano vecchi, mamma Ma erano giovani Che ti capisci è bravo Donato La devi smettere di raccontare a giro a tutti quello che sogni Perché la gente ti viene in giro Donato La devi smettere perché se la cosa viene al mio orecchio Io gli lavoro sete col prosciutto a questi Eh? Che non ti devi far mettere i piedi in testa da nessuno Neanche approfittarti della gente Ma non farti mettere i piedi in testa da nessuno Capito? Dai, ora andiamo che mamma c'ha da fare Oh Donato! Com'è male la faccia? La mia mamma mi brontola perché sono i vecchi I vecchi? Chi sono questi vecchi? Hai ragione Li chiamo io così per semplificare Sono quei personaggi che leggono i tuoi libri Ma te la devi capire la tua mamma Con i figlioli la fanno al mattino Il tuo papà non trovava la loro E poi ti ci metti anche te Con le sue fantasie Ma come fantasie? Sono sui libri no? Sì ma il problema è un altro Donato Perché te ti imbamboli sempre Sei svagato Te viaggi sempre sulle nuvole bimbo mio E allora perché mi hai dato tutti quei libri dal lento? Tu sono più altrucente Non lo devi lui Aspetta Ti metto la busta Sono fatte al bacio Le paghi domani Ciao Ciao Eh? Allora? Io ti ho detto di leggere Non di farci sovrare le fantasie Eh? Anche se ti devo di una cosa Ogni tanto Uscire dalla ma realtà Non fa mica tanto male Anche io Anche io sono E mentre sono che che lavoro Vedo e faccio il mio spettacolo Perché io sono un grande artista dentro Sei un grande artista? Che bello! Che bello! Chi sono? Il ciabattino Ma no! Un professore di lettere E dai! Non ci posso credere Stai facendo il ciabattino L'importante è sapere chi siamo dentro E chi non capisce i tuoi reali valori interiori Non capirà mai neppure i tuoi sogni, caro mio Allora mamma E ce li siamo Ma non capisci? La tua mamma è solo preoccupata Lei ti ama Lei i tuoi reali sentimenti Li capisce davvero Ma se sei professore Perché non insegni in una scuola? Non lo vedi Non ho lavoro a scuola La mia scuola è la vita Entra un cliente Ci parlo Lo interrogo Lo boccio Entra un altro Ci parlo Lo scruto Promosso Te per ora Te per ora Per ora sei promosso Tra storia Tra storia ed amore Tra storia ed amore E il cuore che va La realtà di ogni giorno è più dura Ci si uccide anche senza pietà Si può dare l'amore più vero Un cuore sincero Che sogno è per me Che sogno è per me Erano proprio da soli con me Oh ma scagni Fattori e rumodi Ci insegnate la vita Com'è così Estrassi la spada E gridai Garibaldini All'attacco Evviva l'Italia Tanato? 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 Ah mamma Lo sai che Garibaldi Stava di casa nella nostra città? Ma lo so sì Non c'è mai tutti i giorni A comprare il vino a mia Cabrera Ma mica lui Quello che dico io Era un eroe L'eroe di Romondi Garibaldi Un eroe C'è anche il vino buono Andai lì a essere un eroe Ma non quel Garibaldi Mamma Ora te lo ridico Oh torsolo Ho capito che dici Garibaldi Quello dei miglia Con le camicie rosse Quello con la barba lunga I capelli lunghi argentati Ah com'era affascinante Il marito di Anita Mattea che pensi? Gua ecco lì Ci mancava allora E come sono così? Ma ti rendi conto Pampanina Non sa nemmeno cosa deve dire Vogliono governare il mondo Lasciali perdere dal G Sabbia Non fare peggio Allora cosa succede? Chi c'è sul palco? Chi vuoi che ci sia? Il gran genarcaiello Facciamoci due risate allora vai Il nostro duce Ci condurrà Verso i traguardi più ambiti Verso la vittoria Se tutto l'antipiano capito L'impero romano Mi sorgerà Bravo 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 I nostri camerati nazisti Ci aiuteranno A far divenire questa nostra nazione Possente Bravo bravo Ma guardate quelle sceme come applausono Ma Bruno Saranno le future imperatrici L'Italia L'Italia È destinata a divenire Il popolo Con le palle Bravo bravo Ma guarda questo biscotto Mezza sega E mi cazzotti Ma appena posso L'Africa Sarà solamente l'inizio Il nostro grande potere Gli altri popoli Aspettano la nostra grande civiltà E noi Apparteremo Bravo bravo Noi Noi Staremo Non staremo mai dalla loro parte Nemmeno molti Non staremo mai dalla loro parte E nemmeno molti Che guiderà Intero mondo Mi mandoci Ma vai affanculo vai Noi marceremo Insieme a te E sfideremo Avanti al dolce Avanti a te E a tutte le parti Per il campo Una cosa assurda E quello buono vero Se no te lo riporto E che arriva a te Cascavoto Tanto a tu marito Ripace il vino Ciao 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 Gina Ciao Buongiorno 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 Alla salute Segna Segna Mi costa più di gratis Che di vino Ciao Buongiorno Buongiorno Ma vedi quello raggiù Quello Quello è uno che si rovina Lui e tutta la sua famiglia Con tre figlioli poi Tutti piccini Carivaldi buongiorno Buongiorno Un litro di bombo Per il mio maritino Come? Per quello che beve lui Perché ha detto Se no sarei pesce Tieni Grazie Ah sei sempre qui E bevi di mattinata Ma cos'è successo? Mi hanno licenziato Come? Licenziato? Un'altra volta È nova Se vanno solamente a bere A far figliolite E poi loro se la pigliano con te Per la politica Sì ma questa volta Mi ci trovano Vedrai che mi ci trovano Stavolta Proverò un altro lavoro Ma certo Un altro lavoro Come no Come quest'anno Un lavoro di due giorni Da guadagnare due lire E poi dieci giorni a bere E ma stavolta ci parlo io Sai con cui gradassi E voglio vedere Se no ti trovano da lavorare Stavolta Voglio proprio vedere E te muoviti A venire a casa Che ci sono tu figlioli Che ti aspetta Andiamo No Sì Certo Bellezza amore Ti piaccio Sì Mi piaci Mi piaci Io ti amo Ti voglio bene Ti bacio Baci 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 Oh beneficenza amore E' affumato Ma lei la devi uno A noi A noi è una sega A noi Il mio marito Ha perso il lavoro Io non so come andare Da mangiare I miei figlioli E voi mi venite A rompere le scatole Con questa a noi A me mi fare di molto Ma di molto a voi Ma cosa dite Donna Dico Dico Che avevate promesso Tante cose Il lavoro Eh sì Perché l'impero La Somalia L'Abissinia Eh Se cosa me ne frega A me dei mori Ce l'ho già in piazza Io voglio un lavoro Per mio marito La settimana prossima Sarò io a Roma E vi introdurlo Donna Vi introdurlo Ci sarò Vedremo Vedrete Questa ricetta Voi? Parli pure con me Avete un appuntamento? Abbiamo un appuntamento Ecco le luce La signora Beneficenza Il nostro professore Barman Ha già provveduto A 25 tesi Sulla dottrina Della chiesa nazionale tedesca Ja Io Voglio però Mantenere Buoni rapporti Con il Vaticano E non aspico a breve Una chiesa Cristiana Unica Nazionale tedesca In Italia C'è poi La missione Rea Sarà necessario Volere il Vecchio Testamento In quanto è vero Il Führer Vuole risolvere Questa questione Il primo consiglio Beh Mi sto occupando io Una madre di famiglia È sempre un'italiana vera Luce Io sono italiana Ma anche mamma Di 5 figlioli Che ci hanno una fame Da un lupo E che si mangerebbero Anche la scoderma Bene Veri maschi Per la patria No Luce Maschi E femmine Per me I figlioli Sono tutti uguali Non so se l'ha presa Maschi si Ma non so quanto potranno Essere utili Per la patria Se continuano a patire Questa fame qui O doce Lui si va insomare Si va a sfamare I somali Però Io non ce l'ho Quello Non tendiamoci Ma non è qui Si patisce la fame La fame vera Quella che fa Venibuchi Non lo so Tornate a casa Vostro marito Ora Nel giro In un paio di giorni Il suo lavoro Andate fiera Dei vostri figli Date A questa madre di famiglia Tutto ciò che le occorre E fatela viaggiare In carrozza Di prima classe Andate ora E ricordate Viva l'Italia Sempre Viva l'Italia Viva l'Italia Viva l'Italia Viva l'Italia Dal Gabbro Paese fra Pisa e Livorno Dove eravamo scappati Dopo il primo bombardamento Che aveva distrutto Gran parte della nostra città Si era sfollati a Matelica Un paesino nelle Marche Dove faceva un freddo Così buggerone Che il naso diventava rosso Come un pomodoro maturo Noi bimbi Anche se era buio Si andavamo in giro Per il paese Insieme a Fra Claudio Coi morsi della fame Per cercare qualcosa Da mangiare E riempire Quei buchi senza fondo Che stavevano il buzzo E magari Portare qualcosa da mettere Tutti i denti E i nostri fratelli più piccini Perché sono venuti in questa chiesa Claudio? Perché qui c'è un vecchio amico fraterno Che vi potrà aiutare Quando io sarò impegnato in altri posti Come amico? Anche voi frate come te? E' un buon amico Un buon religioso Ma non è un frate come me Lui è di un altro ordine Che cosa vuol dire di un altro ordine? Che è come Claudio Ma che ha avuto una nascita religiosa differente Vero Claudio? Vero Infatti Padre Giovanni E' un frate trinitario Trinitario? Questo non so neanche cosa vuol dire Devi sapere Che questi coraggiosi religiosi Andavano a giro per il mondo Cercando di far liberare Gli schiavi Di religione cristiana e musulmana Che venivano tenuti prigionieri Nelle carceri di quei tempi Quali carceri? Quali tempi? Fatelo parlare E ascoltate Le carceri in quei tempi Si chiamavano bagni penali E gli schiavi Venivano torturati cudelmente Ma per fortuna Questo avveniva Tanti anni fa Tanti quanti? Eh almeno 800 800 anni? Mamma mia che coraggio Che dovevano avere Certo Tanto coraggio Pensa che addirittura Si offrivano loro Un scambio agli schiavi Pugli liberati Claudio 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 Amico mio Poi parliamo Parliamo Di noi E Pizziamo ora i bambini Credo che abbiano Molta Calma Calma Ce n'è per tutti Lo faresti anche te Se avessi la loro età E poi con questo freddo Chissà che fame hanno Perché prendi la pentola Su te? Lo so Ma Beh al caprimone Ci sono tutti i bambini Come noi E non è giusto Che ci riscaldiamo Bravo Allora prendila Torta la casa E fai in modo Di dividerla con tutti Mangiando il santo Si padre Non so io Anna L'acqua del torrente Continuava a brontolare Passando fra i rami delle piante E l'erba cristallizzati da gelo Il freddo penetrava nell'ossa Ma eravamo bimbi E sapeva quella vitalità piena D'entusiasmo e d'ardore Che riscadda la carne e l'ossa Anche se la nostra fame inestinguibile A volte Cancellava gli slanci Del nostro spirito inquieto In quei giorni avevo un'amica per le mani Isa Il mio primo piccolo grande amore La lontananza dalla mia terra Nonostante quel mio dolce amore Per quella bimba Mi portò però A pensare al mio mare E alla mia gente E tu chi sei? Sono Donato Vi posso fare una domanda signore? Certo Ma il vostro nome? Io sono un musicista Mi chiamo Mascani E quello chi è? Signore lo conoscete? Quello? Quello è un grande artista Un grandissimo pittore È il grande Amedeo Modigliani Vieni che te lo presento Ma non vi vorrei da noia Ma no, vieni Amedeo Come va? Rimorsi Rimorsi per cosa? Per quelle teste che buttai nei fossi Quali teste? Quelle teste che scolpì Quando tornai da Parigi E poi buttai nei fossi olandesi Sì Ora la gente si dà da fare per cercarle Ma non le trova Mi hanno fatto anche una burla Noi a Livorno siamo fatti così Siamo artisti Pittori Musicisti Navigatori Eroi Condottieri Commercianti Tutti impastati con l'ironia e col sarcasmo Chi ci vuole ci prende così Questo è Donato Un giovane della nostra bella città Che accomuna una profondità d'animo Ad una spiccata intelligenza Non per nulla è di Livorno Ma quella chi è? Mia madre E perché è così triste? Mia madre non è mai triste E quelli chi sono? Compagni della mia vita Gente Anche loro artisti in un certo senso È vero Mi ispirano una musica dolce Vigorosa Forte Come piace a me Non mi lasciate solo Dove andate? Tu non sarai mai solo Hai i valori della vita Grazie 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Lo stesso Guarducci fu costretto dai suoi amici ad arrendersi, ma io non lo feci. Io restai lì con i pochi e con i bersaglieri della morte a difendere la porta di San Marco. Restassi solo? Non proprio, con pochi fedeli. E poi? E poi? E poi fui catturato. Ma al momento della fucilazione avevo un solo pensiero. L'Italia. L'Italia libera dall'invasore. Mamma e Bruna riuscirono a far liberare Bappo e gli altri uomini. Ma da quella sera, tutti coraggiosamente, decisero di aiutare i partigiani a portare in salvo i soldati russi. Deve essere giusto qualcosa. Dovevano essere già qui. Non mi piace. Meglio andarci, ne andare giù alla chiesa da misa. Aspetta, aspetta. Cosa? Shhh. Sei sicuro che questa sia la direzione giusta? Tonino e Luigi sono andati da Alberto. Senza neanche dirci dove cazzo si trova la chiesa. E che mi so, questa merda, tipo scaglia, ci capisce solo Donato. Sì, ma adesso ci siamo io e te. E quelli non scherzano, sai? Non ti caccherai addosso proprio adesso? Un po' di stizia io ce l'ho. Misia ci aspetta la chiesa. Guarda, lassù, quello è il masso che ci hanno detto. Andiamo. Resta, andiamo. Che è venuto a fare qui? Ma... Che è venuto qui? Che è venuto a fare la spia? Quanto è venuto a fare? No, no, aspettate, aspettate. I tedeschi hanno ucciso mio marito, mio figlio. Sanno già tutto di voi. Dovete scappare. E' troppo pericoloso, meglio abbandonare. Sì, andiamo. Ma, fermi. Fermi. Devono essere i tedeschi. Sa chi ha ragione? Resta, andiamoci. No, no, fermi. Ve l'avevo detto, sono loro, sono loro. Ma dovevano venire da questa parte? Sono loro, presto voi. Andate a visare Misa, ci sono arrivati. Andiamo. Sono arrivato! Gino, Rolando, è ciò, stai attenti! Donato, Donato, ascoltami. Io lo devo dire a lui perché è più grande. Ascolta Donato. Stasera bisogna andare a spingere, eh? E i partigiani ci avranno da liberare una ventina di primi e rivolsi. Dobbiamo andare lì. E te che conosci Metallica come le tue tasche, che andrà avanti in un centinaio di metri. E dovresti essere attento. Attento che non ci siano fascisti e nazisti. Perché se ti pigliano non ti danno nemmeno il tempo di dibbaia. Hai capito, Donato? Hai capito? Andiamo. Veloce! Andiamo! Andiamo! Vai, vai! Partirà il primo gruppo. Dopo mezz'ora si è filato tutto liscio. Partirà anche il secondo. Bene. Adesso andiamo a dormire. Abbiamo due ore di sonno. Grazie, anche per domenica. Dai! Andiamo qua a salerarmi un'altra. Per arrivare più avanti. Per arrivare più avanti. Pampanina aveva attirato su di sé i tedeschi scappando, salvando così tutti gli altri. Durante quelle pericolose azioni partigiane, molti russi furono portati in salvo, ma altri purtroppo uccisi. E dei nostri molti furono fucilati o barbaramente torturati. una sera io e mio fratello Enio ci sono andato a rimpiattare nella bettola, dove di solito il generale testa pelata delle SS si riuniva con i fascisti e i nazisti. non c'è nessuno. sì ma aveva già aspetti. Sì ma non c'è nessuno. Non c'è nessuno. ma deve essere sotto quel fanai. presso la caserma ti stavo ad aspettare. Anche stasera aspetterò Fermi, sei la neue marzista! Fermi, fermi, fermi! Valla giù! Ehi, testa al tetto! Ehi, l'hanno detto alla destra! Radega un mazzista! Radega un mazzista! Radega un mazzista! Radega un mazzista, valla giù! Bavete visto che ha sbagliato? Ficata via 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 via... Tre mesi dopo, ai piedi del Monte Camerino, zio Tonino morì impiccato da nazisti perché con due bombe a mano aveva cercato di arrampicarsi su un carro armato Leopard per farlo scoppiare e altri dei nostri furono purtroppo fucilati per la presaglia. Grazie a tutti Donato, che ci fai qui? Preto, dobbiamo andare lassù. A fare cosa? Ho freddo, babbo. Noi torniamo a casa. Noi torniamo a casa. Vai a casa! Donato! Scappa! Donato! Donato scappa! Lì a mamma che viene arrestato! Scappa! Misia! Misia che cosa è successo? L'hanno arrestati! L'hanno arrestati? L'hanno arrestati! Non ci posso credere! Bisogna andare ieri a liberare! Andiamo, andiamo! Donato! Te che sei più grande stai attento al tuo fratello mi raccomando e ti hai capito! Vai tranquilla, vai Misia che ci penso io a Donato lo guardo io! Andiamo Bim! Andiamo! Ma lo sapete cosa si fa, bimbi, domani? Passò quasi un mese tra alterne drammatiche vicende mangerecce e tanta nostalgia di mamma e babbo. Si venne a sapere che Bruna, detta la ciuscia, era miseramente morta, sotterrata ancora viva perché da sola aveva coraggiosamente affrontato i militari nazisti per liberare i prigionieri. Anche se però non fu mai più ritrovata. Si soffersa anche un po' di fame. Poi il buon vecchio Penerone cominciò a invitarci a mangiare e a giocare a casa sua. Io che avevo una smisurata fiducia in mamma tenne i testa che ormai la dava per morta e lei una sera apparve in fondo alla stradina. L'hanno portata in Germania. Era meglio se fossero morti. Alceste morì ad Auschwitz. Gino a Bergen-Belsen. Babbo e Rolando ritornarono ma in che stato ridotti. Vino, mattane e non furono più buoni a fare una vita normale. Niente lavoro, ubriachi dalla mattina alla sera. Babbo buono solo a fabbricare figlioli e ne fece fare altri tre a mamma dopo i cinque prima che le venisse un colpo e costretta a dover vivere su una sedia a rotelle per nove anni prima di morire. Grazie a tutti. Queste cose però facevano capire che eravamo vicini alla fine della guerra. Grazie a tutti. 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 Per quanto mi riguarda poi di come avessi queste visioni di personaggi storici o vecchi, come li chiamavo io, non mi è mai stato dato di capire e questi viaggi sognanti si sono ripetuti periodicamente fino a oggi, ma ancora non so quale significato abbiano. Certo è che queste mie visioni e i ricordi di quel triste periodo mi hanno fatto capire quanto la mia città ha dovuto soffrire per raggiungere il benessere che oggi i giovani hanno trovato bello e spiattellato. Anche in mezzo al marasma della guerra ormai finita, a quelle rovine materiali e morali, la vitalità della sana gente della mia città si era rivelata una volta di più nella sua tenacia. Si erano riassettate rifatti le strade, riattivate le industrie, riparati fabbricati, costruiti nuovi palazzi, inaugurati lussuosi negozi, si era insomma lavorato con fede. Se poi una minoranza senza scrupoli aveva trafficato e si era arrangiata, questo non conta e in ogni modo è meno di quello che ha fatto o farebbe qualsiasi altro popolo. Se mai tanta scaltrezza si potrebbe pittorescamente riallacciare proprio alle origini della mia città, nata da un cacciucco di tipi senza passaporto, gente scapestrata, furba, scazzolata, gente che urla, smanaccia, che si infisca di tutto e di tutti, insomma una stirpe particolare, una stirpe proveniente di certo da terre misteriose e lontane, una stirpe discendente da chissà quale razza, ma di sicuro una stirpe con le palle quadrate, una stirpe insomma che a me piace definire la stirpe di Morgiano. di Porto una stronzata. La stronzata ragazzi, si aperto? Questa volta scelgo io. salvatore salvatore ma andiamo andiamo a chiudere sto scianca morta forza ma cosa è successo si sarà sentita male ma va bene ecco chi è ma vedi donato ma andiamo che sono stanca sempre a pensare al tuo film donato ma mica te lo faranno girare lo sai andiamo vuoi andare a casa con forza salvatore vai a spingere le luci che andiamo a casa a dormire al cinema a dormire al cinema stop donato il film è finito non 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vino, 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 tu do il bicchiere a me, vino, 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 io lo berrò per te. Vino, 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 tu do il bicchiere a me, vino, 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 io lo berrò per te. Vino, 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 tu do il bicchiere a me, vino, 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 io lo berrò per te. Vino, 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 tu do il bicchiere a me, vino, 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 io lo berrò per te. Vino, 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 vino. Vino, 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 tu bicchiere a me Vino, 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 io bicchiere a te Vino, 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 tu bicchiere a me Vino, 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 io bicchiere a me Vino, 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 tu bicchiere a me Vino, 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 io bicchiere a te Vino, 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 tu bicchiere a me Vino, 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 io lo berrò per te Vino 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 il tuo bicchiere a me Vino 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 il tuo bicchiere a te Vino, 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 tu dà un bicchiere a me Vino, 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 io lo berrò per te Vino, 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 tu dà un bicchiere a me Vino, 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 io lo berrò per te Vino, 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 tu dà un bicchiere a me Vino, 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 io lo berrò per te Grazie a tutti Grazie a tutti